ok ciao ragazzi oggi vi faccio vedere il modo veloce per riparare il vetrino della fotocamera su iphone 7 e anche operazione valida anche per iphone 8 che è la stessa identica procedura quindi questa è l'operazione più veloce semplice e veloce la potete fare tranquillamente voi da casa che dire mi raccomando state attenti perché è facile rovinare la fotocamera quindi occhio dai passiamo l'operazione questo lo mettiamo per proteggere la fotocamera quando andremo a rimuovere i residui di vetro ok adesso che avete protetto la fotocamera con una pinzetta o qualcosa del genere potete passare a togliere i residui di di vetro che ci sono se non li avete meglio ma è difficile che non ci siano vedete che è complicato pezzettino per volta è uguale tolto tutto e via tolta la carta e via fotocamera posizionata con successo quando la colla asciuga potete pulire anche il vetro sopra non prima perché se no si vabbè io lo faccio anche adesso però rischiate di rimuovere di spostare il vetro ok guardate che lavoretto fotocamera funzionate perfettamente attenzione quando prendete il vetro non appoggiare il dito all'interno perché sennò poi è un problema dovete smontare il telefono per chiaramente per tirare via diciamo i residui che va pulito insomma va bene dai come al solito date questo punto vi chiedo di iscrivervi al canale di lasciare un like al video e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati su smartphone e tablet tutorial e speed test speed test presentazioni e nuove uscite ciao